un cordiale saluto e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV buon inizio settimana sul canale 17 c'è la rassegna stampa come tutte le mattine in diretta alle 7.30 poi in replica fino alle 8.30 poi alle 9.10 e alle 11 e alle 13.30 cominciamo dal santo di oggi vediamo che santo è allora oggi è Santa Costanza di Vercelli il sole è sorto alle 7.01 e tramonterà alle 17.42 per il tempo oggi la protezione civile delle Marche prevede in tutta la regione cielo poco al più parzialmente nuvoloso in mattinata con temperature in diminuzione nei valori minimi per la giornata di domani invece martedì 21 febbraio cielo generalmente poco nuvoloso con transito di nuvole durante le ore centrali della giornata e temperature in aumento nei valori massimi avremo condizioni di tempo stabile sulle Marche almeno fino a giovedì con temperature in lieve aumento allora abbiamo la cronaca da una parte con un ultraleggero che è caduto a Fior di Piano siamo in provincia di Pesero Urbino dove il pilota con 30 anni di esperienza se l'è cavata soltanto con un po' di paura ma neanche tanta come vedremo e lui ha già detto che tornerà a volare e poi abbiamo il carnevale il carnevale con migliaia di persone che hanno affollato ieri la città di Fano e dunque c'è il racconto partiamo allora dalla prima pagina del resto del carlino di Pesero e la fotografia di questo coraggioso e bravo anche pilota che si è salvato cadendo con il suo aereo un biposto che è finito contro un albero a Monte Maggiore al Metauro lui dice sereno non ho avuto paura salvo il pilota vedete questo è quello che è rimasto del suo aereo è caduto volutamente proprio lo dice lui lo racconta lui tra i rami vedete qui ci sono i rami che hanno attutito chiaramente la caduta 30 anni di esperienza dicevo 30 anni che in questo caso sono tornati davvero molto utili per salvargli la vita si spegne il motore si salva planando l'atterraggio di un piccolo Savage finisce contro due querce il pilota uscito illeso si chiama Romano Zangolini e grazie all'esperienza di 30 anni di voli ha evitato lo stallo andando a planare dice lui dove volevo io e sotto c'è il racconto il racconto di questo atterraggio il motore da 115 cavalli si è improvvisamente spento racconta lui a 50 metri d'altezza lui ha 59 anni Romano Zangolini ha 59 anni imprenditore edile appassionato di volo pilota da 30 anni residente a Montemaggior al Metauro e devo dire conclude lui nell'articolo di Roberto Damiani che i miei 30 anni di volo sono tornati utili per evitare che l'aereo andasse in stallo in quel caso sarebbe caduto invece dice lui ho planato contro le querce volutamente il Corriere Adriatico la racconta nella pagina questa disavventura nella pagina della Valle del Cesano anche qui le fotografie aereo precipita dopo il collo il pilota a terra su una quercia schianto a fior di piano imprenditore in colume motore del biposto in avaria a 45 metri d'altezza non ho avuto paura racconta e di certo tornerò presto a volare e sotto Romano Zangolini racconta i ramis hanno fermato il volo e costretto a planare sul campo poi sulla pagina sempre del Corriere Adriatico di questa mattina la Valle del Cesano da Terre Roveresche o meglio da Urciano danneggiate le porte della scuola un ride di Balorde nella notte ora l'istituto dovrà pagare un conto di oltre 300 euro poi dicevamo del Carnevale con madrina d'eccezione Valentina Vezzali la campionessa olimpionica di Scherma la Vezzali colpita dal getto ma colpita nel vero senso della parola perché è stata ferita un sopracciglio però lei dice non si scompone per me questo è un giorno speciale nel frattempo code in entrata e in uscita dal casello di Fano per tutto il giorno e devo dire ieri comunque è stata una giornata davvero incredibile con un fiume di persone, un fiume di gente che ha gremito il viale dedicato al Carnevale e il Corriere Adriatico dedica due pagine agli eventi carnevaleschi con draquine, trasgressione, il Veglione Derby è un'opera d'arte parti ufficiali del nuovo direttivo qui si parla dei due Veglioni quello con il nuovo direttivo notte e otto tra animazione, maschere, dj e tanti premi sotto invece il racconto dell'altro Veglione quello organizzato dagli ex Willy Walker e la mitica Carlina per il ballo degli ex successo per la serata della Palazzina Sabatelli tra balli e prelibatezze la Vezzali, la Vezzali dicevamo in seconda pagina su Fano sfilata molto onorevole sapete insomma tutti che Valentina Vezzali è anche deputata quindi è onorevole Sport e Carri, domenica da record invasione fin dalla mattina l'organizzazione ammette siamo troppi impossibile quantificare il numero però ieri sera chi ha seguito il processo al Carnevale insomma Mazzanti diceva insomma 65-70 mila persone folla da tutta Italia nel pomeriggio 200 ginnasti hanno dato vita a un flash mob a un ballo da record 200 ballerine 200 persone 200 ginnasti davvero suggestivo e questo è quello che è il racconto del Carnevale poi c'è una storia bellissima incredibile che non è nuova e continuerà ad accadere perché è così la vita a volte ci sono bambini che hanno fretta di nascere e c'è stato ed è successo anche alle 7 di sabato sulla circonvalazione di Casinina un parto flash praticamente un bambino che è nato nell'automobile vedete i genitori contentissimi la mamma contentissima è successo mentre parlavo al telefono dice il papà con l'operatore ho sentito un vagito e mio figlio era lì mi hanno detto di legare il cortone ombelicale coi laccetti delle scarpe c'è tutta la storia questa bella storia sul carlino di questa mattina allora invece è una storia così a tinte fosche non si capisce bene che cosa è successo questa storia tra due minorenni un ragazzino e una ragazzina che si conoscono in chat come avviene quasi come avviene tutti i giorni praticamente immaginiamo insomma e questi si sono conosciuti quindi virtualmente poi hanno deciso di incontrarsi lui è di Padova lei invece di 17 anni di Montecchio di Vallefoglia e insomma a un certo punto questo qui questo ragazzino prima di tornare a casa è passato dai carabinieri dicendo che era stato picchiato un minorenne padovano così è finito l'ospedale aveva conosciuto la ragazza in una chat su internet poi insomma è successo qualcosa che però non si capisce esattamente bene che cosa il Corriere Adriatico eccolo qua sempre su questa notizia scrive ragazzino picchiato dopo un incontro in chat da Padova a Montecchio per conoscere una coetanea qualche ora dopo racconta di essere stato asserito da sconosciuti ha dato l'allarme ed è stato portato al pronto soccorso per essere medicato lui ha raccontato mi hanno preso a pugni e rotto il cellulare però non ha voluto sporgere denuncia è stato dimesso ed è stato riportato a casa dalla madre insomma una storia destinata a rimanere un mistero perché non è finita lì insomma incontri social insomma con finale imprevisto andiamo adesso sulla pagina 2 del Corriere Adriatico si parla dell'ospedale unico Pesaro e Fano divisi ma il nodo è lo sbarco del privato il governatore Ceriscioli e il direttore generale Maria Capalbo in consiglio comunale a Pesaro l'opposizione incalzerà sulle questioni irrisolte sia una nuova struttura muraglia ma il Santa Croce di Fano deve restare e l'entroterra non va smantellato ancora sulla pagina di Pesaro del Corriere ex AMGA e consorzio il porto Albivio domani sera i residenti del quartiere incontreranno in assemblea l'amministrazione tutti i nodi irrisolti le questioni più urgenti sono la bonifica del sito inquinato e il futuro dell'area degradata vicino alla Capitineria questo confronto si terrà con il sindaco e gli assessori si terrà nella sala della parrocchia del porto tribunale invece ancora chiuso un trasloco in più tempi il personale inizierà a rientrare soltanto a partire dal prossimo mercoledì andiamo invece adesso sulla pagina di Urbino del Corriere dove l'università omaggia Umberto Eco con il centro internazionale di scienze semiotiche e ci sarà questa intitolazione questa cerimonia alla presenza del rettore Stocchi le pagine di Fano le abbiamo viste rimangono quella di Senigallia e quella di Iesi allora quella di Senigallia nella casa delle vacanze c'era il covo dei pusher gli spacciatori presa una coppia lombarda sequestrato mezzo chilo di marijuana i due arrivavano e vendevano lo stupefacente in mezza regione poi da Iesi invece donne vittime di mariti violenti due casi in sole due settimane anzi scusate dieci casi in sole due settimane botte e minacce di morte spesso davanti ai figli impennata di richieste di aiuto al commissariato e questa è la notizia che arriva da Iesi dove la polizia ha istituito una task force per aiutare e sostenere le vittime con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa del lunedì vi ringrazio per averci seguito vi ricordo questa sera le 20 e 30 c'è il nostro telegiornale e come vedete c'è anche il nostro numero di telefono al quale potete inviare con whatsapp foto video e anche segnalazioni di testo voglio ringraziare i segnalatori che anche di domenica collaborano con noi ieri abbiamo potuto seguire anche noi pubblicare sul sito internet le fotografie dell'ultraleggero che è caduto andiamo sulla pagina prima di chiudere sulla pagina del nostro del nostro sito eccola qua vedete questa è occhiolanotizia.it abbiamo naturalmente in prima pagina il carnevale di Fano con tantissima gente poi grazie ai nostri segnalatori siamo riusciti a coprire anche la notizia di quest'auto di questo incidente che non trovate credo sui giornali questa mattina è un incidente che è avvenuto ieri pomeriggio alle 15.30 dove una signora di mezza età è uscita di strada siamo in località Chiaruccia vedete a Fano finendo capovolta con l'auto in mezzo al campo è stata soccorsa dal 118 le è stato messo un collare per evitare possibili rischi sul posto i vigili del fuoco e il 118 questa è l'auto della signora appunto qui siamo sulla strada di Chiaruccia a Fano e questa è la notizia che abbiamo coperto grazie come dicevo ai nostri segnalatori ai nostri reporter e poi c'è anche la notizia dell'ultraleggero che però è finito probabilmente in secondo piano adesso ve lo riproporremo ve la riproporremo è finito in archivio vabbè comunque sia mi raccomando grazie per averci seguito ci vediamo stasera grazie a tutti